Peccato, peccato, c'era tutti contro, c'era tutti contro tutti, diciamo, è una battaglia, una lotta perché io voglio mettere una frase per arrivare a un messaggio, forse entrivo fino alla fine e crediamoci in fondo, voglio di andare in gilastica, peccato, sono arrivato secondo ma ho allenato di più, ma ho allenato meno perché l'anno scorso le palestre erano chiuse perché poi l'anno scorso abbiamo fatto con videochiamata per stare in chiusi in casa per allenarci al telefono e noi, mentre un po' fisico prima c'erano i miei adressi a casa diciamo che da quest'anno è aperta e voglio ringraziare la famiglia Bani è una gara di italiani ma perché è una gara importante diciamo abbiamo vinto l'anno scorso da solo quest'anno ho cambiato segno perché sono contro tutti battaglia, lotta di essere fino alla fine e rendiamoci in fondo perché i miei gentili mio papà mi ha detto devi cambiare segno non essere solo facile facile vincere solo ma adesso da quest'anno sarai contro tutti e io voglio contro tutti voglio ringraziare i miei amici di 3A2 complimenti a loro perché loro sono andati avanti per l'artistica Brescia la famiglia Bani e mia famiglia perché mi ha portato sempre la possibilità e tutti i giorni mi ha portato sempre a Brescia e voglio fare complimenti a mio amico e ai miei compagni la squadra nazionale Claudio Fabiani e Riccardo Maimo abbiamo dedicato una gara un amico e voglio voglio fare complimenti a Riccardo Maimo per è arrivato primo posto per sfruttare nuova pagina per lui io sono sportivo diciamo abbiamo fatto tutti i sportivi io sono sportivo voglio chiedere Riccardo Maimo ha allenato di più perché con gli esercizi di quest'anno abbia portato sempre a sfruttare nuova pagina e sfruttare il primo posto voglio fare complimenti a mio amico Riccardo e anche Fabiani e abbiamo portato sempre in alto la bandera Italia e speriamo che noi la squadra nazionale diciamo sempre fino alla fine rendiamoci in fondo e guarire di essere oltre come come il calcio il calcio è diverso della ginnastica ginnastica deve mettere svolta nuova ginnastica il calcio è diverso della ginnastica ginnastica è una ginnastica è un sport sudare inquadrata e di essere e di essere orgogliosa voglio voglio mettere una frase fino alla fine forza ginnastica 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 oggi in fondo per sfoltare nuova ginnastica sfoltiamo questa nuova pagina per noi atleti nazionali abbiamo vinto un mondiale di tutto il mondo in campionati italiani e abbiamo fatto triplette delle gare e non essere solo ma tu essere più gritto e devi lottare fino alla fine come come la juve devi fare quello che dicono sempre ascoltare gli allenatori tu devi andare acquistare tutte le gare di essere un campione il titolo del mondo e mondiale di aver portato questa questa risultato di aver portato di essere un campione ma diciamo nuova pagina chiudiamo fino alla fine crediamoci in fondo love ginnastica e diciamo sempre questa frase non si mola mai n'è che una ragazza sulla ginnastica questa ginnastica evitata evitata di essere umiliata questa non siamo umiliati questa rispettiamo il nostro petto per sempre ginnastica tutta la vita andiamo per per sfruttare nuova pagina di essere campioni del mondo di aver portato rispetto per tutti noi portiamo rispetto per tutti le regole del covid per sfruttare nuova pagina fino alla fine forza ginnastica grazie